Il problema è che devi riprendere tutti perché se si blocca un po' devi stare attento Ecco partita la gara Io ti sento chiaro se vuoi stare forte C'è un'altra età che si è staccato dal gruppo ma l'Oda Millennium è partito subito Ecco ancora un tentativo di fuga ma il gruppo è lì un atleta all'Oda Millennium Ecco il gruppo si è quasi ricompattato Diego Fenaroni e Rigoni Tentano di sganciarsi dal gruppo, gruppo che si è sfilato Ecco il gruppo si è ricompattato Tutto intero il gruppo si è il gruppo compatto Ecco tenta ancora di sganciarsi dal gruppo Ancora Andrea Rigoni A me non mi parli dopo E adesso fai scrittiti Ecco cinque atleti Un gruppo di cinque atleti sono staccati dal gruppo Andrea Rigoni Andrea Rigoni Diego Fenaroni Mi sembra Massa Eccolo qui Diego Fenaroni Andrea Rigoni Massa o Mura Cinque atleti ma il gruppo è lì Il gruppo è lì neanche a dieci metri Staccato l'altro Venticinque Dai che mi raggiungo Diego Fenaroni Tira il gruppo dei tre Tre atleti C'è un atleta A cinque metri Eh il gruppo si sta ricompattando dai Ecco qui i fuggitivi A me mi sembra Massa o Mura Noi siamo a Rigoni A Rigoni Andrea Fenaroni Io in tre Comunque il gruppo si è spaccato in due tre tronconi Eccolo 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 Andrea Rigoni Eccolo 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 Andrea Rigoni Ecco Ecco i due compagni di squadra Tentano di staccare a Fenaroli Eccolo 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 Sommia se Diego ce la fa, a tenere quel passore, sommia se Diego che la fa, ha già mollato, Andrea è partito, Andrea Rigoni, ha staccato i due, il compagno di squadra e anche Diego Fenaroli, Andrea Fenaroli in marcia,